Anche se dal punto di vista climatico non si direbbe, ma per Natale non manca molto e quindi già si sta mettendo mano al presepe. Noi ci troviamo a Schiaponte dove sta per essere proprio allestito il presepe narrato, quello tradizionale anche con la narrazione di Gesù. Allora, come si procede? Come ogni anno siamo appunto alla costruzione dell'undicesimo presepe del gruppo E' Bello Presepe di Schiaponte, il presepe narrato e animato e si può dire che quest'anno abbiamo fatto un po' di novità sia dal punto dello scheletro, delle impostazioni e anche delle narrazioni. Non mancano le novità che appunto dal 8 di dicembre all'8 di gennaio potranno scoprire i nostri visitatori, soprattutto i piscini perché in primis è una passione, è un qualcosa che si fa per i bambini che poi si viene appunto trasportati anche noi come adulti. Ci saranno delle novità e siamo anche a buon punto anche se appunto come anticipavi le temperature sono più estive che natalizie. Questo vi aiuta un po' a lavorare. Tanto sono anche molti turisti che seguono gli itinerari presepistici che negli ultimi tempi sono molto incrementati sull'isola di Schia. Sì, infatti stanno nascendo per fortuna molti gruppetti anche di ragazzi che si cimentano appunto nella creazione del presepe e questa è una cosa importante che a noi fa molto piacere. Si può dire che del nostro gruppo io sono il più piccolo a differenza appunto degli amici che collaborano con me che hanno già alle spalle più di 30 anni di presepi. Però fa piacere vedere in giro per l'isola che è una tradizione che continua ad emergere soprattutto nei più piccoli.